Senta, scusi, un'informazione, io lavoro qui, io lavoro qui a fianco. Quale trattamento è questo? Non c'è? No, no, no. Cioè, quando fate il trattamento, poi per ore si sente un odore strano nell'aria. Ma che sostanza è questa qui? No, sono fungicidi. Ma che tipo di fungicida è questo? Che tipo? Cioè, come si chiama? Mamè, mamè, è di piano, di piano. Ah, è di piano, perché si sente poi. Ma non è di neva.